Fiera Milano Editore, casa editrice specializzata nei settori dell'automazione, elettronica, meccanica ed energia, organizza mostre convegno specialistiche dedicate al mondo business to business con il contributo degli staff redazionali delle sue riviste tech. Le mostre convegno, organizzate in collaborazione con noti enti di riferimento per i singoli comparti, quali Ani e Asso Automazione e Anipla, sono per i visitatori un'occasione unica per sviluppare contatti con le realtà produttrici e distributrici e come momenti informativi e di formazione. Visitando gli stand presenti nella sala espositiva, i visitatori possono toccare con mano il meglio della tecnologia e trovare i giusti contatti con le principali aziende del settore. La sessione plenaria in apertura dell'evento, seguita dalla tavola rotonda coordinata da un esperto giornalista di Fiera Milano Editore, informa su dati di mercato e offre panoramiche tecnologiche. Nel corso della giornata, Fiera Milano Editore propone altre interessanti iniziative, come il premio FME, Fiera Milano Editore all'innovazione. Fiera Milano Editore vi dà appuntamento alle prossime edizioni delle mostre convegno. Fiera Milano Editore vi dà appuntamento alle prossime edizioni delle mostre